Buonasera a tutti ragazzi, bentornati su Crypto Salad, qui Federico. Oggi 14 ottobre, 22 Bitcoin, 19.400 dollari in questo momento. Guardiamo la situazione insieme dopo la giornata di ieri, giornata caratterizzata da grande volatilità e forte emotività collegata. Guardiamo quindi come si è evoluta la situazione per Bitcoin dopo la giornata di ieri, guardiamo il settimanale, guardiamo il quantitativo di long che ci sono su Bitfinex, parliamo di un altcoin in particolare interessante da monitorare e poi ragazzi guardiamo anche l'S&P 500, giornata anche per l'S&P importante, quella di ieri. Quindi come al solito se vi sembra interessante lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per le notifiche, lasciate i vostri messaggi, guardate anche i referral, link in descrizione. Quindi ragazzi iniziamo a guardare il time frame giornaliero, siamo su Binance, Bitcoin, la giornata di ieri dicevamo caratterizzata da grande volatilità, Bitcoin scende nel primo pomeriggio in zona 18.200 dollari per poi rimbalzare molto velocemente e chiudere la giornata con una candela verde in zona 19.400 dollari. Quindi una giornata di forte volatilità, Bitcoin dimostra di voler difendere ancora in maniera importante la zona dei 18.200 dollari e per adesso non aggiorna il minimo registrato il 16 giugno, 18 giugno scorso in zona 17.600 dollari. Vediamo che abbiamo la nostra zona di resistenza costituita da questo CPR che vediamo essere tra i 19.700 e i 20.500 che ancora non è stata violata. Quindi fin tanto che a mio avviso Bitcoin non viola questo livello di resistenza ma viene ancora e continuamente rigettato non è assolutamente da escludere la possibilità che andiamo di nuovo a visitare i livelli di supporto del mese di ottobre. Quindi 17.400 il primo livello e il secondo livello 15.400 dollari. Quello che sicuramente vogliamo vedere per Bitcoin è violare il livello in particolare dei 20.100 dollari e riuscire a mantenersi al di sopra dello stesso utilizzandolo come punto di supporto. Quello che è incoraggiante per i bulls in questa fase è che i volumi durante tutta questa fase di potenziale bottom, quindi di potenziale minimo, sono in ascesa. Quindi sicuramente è interessante vedere che ci sono volumi in ascesa che solitamente corrispondono a una fase di bottom perché c'è coincidenza o coordinazione tra i buyers nell'entrare proprio a quel livello prezzi con volumi ascendenti. Quindi è tutto ovviamente da confermare. Vediamo poi ragazzi il settimanale, una chart che sicuramente sembra mostrare una situazione che in prospettiva quindi che guardata tra un po' di mesi a questa parte potrebbe sembrare addirittura ovvia con Bitcoin che ritraccia in prossimità della media mobile delle 200 settimane. Qua siamo nella smoothed moving average, quindi la media mobile che tiene in considerazione il prezzo attuale, pesa di più il prezzo attuale rispetto ai prezzi passati e come in passato Bitcoin si è fermato proprio in prossimità della media mobile delle 200 settimane, anche qui siamo in presenza del supporto delle 200 settimane smoothed e anche nel bottom del 2015. Quindi sembrerebbe una situazione che col seno di poi sia addirittura troppo semplice da interpretare. Inoltre abbiamo anche una divergenza importante sul time frame settimanale. Vedete che Bitcoin crea dei lower low, perlomeno in termini di chiusure, ma l'RSI, e qui è un fatto sul grafico e non necessariamente la mia opinione, l'RSI invece sta creando dei lower high, quindi in questo momento degli higher low. Quindi l'RSI crea degli higher low, mentre il prezzo crea dei lower low, perlomeno con le chiusure. Quindi c'è una divergenza rialzista sul settimanale. Se Bitcoin dovesse perdere il minimo fatto a 17.800, cosa assolutamente possibile, a mio avviso poco probabile ma possibile, il livello successivo che sicuramente guarderei è quello che va tra i 12.500 e i 13.900. Quindi questa zona qui in precedente resistenza potrebbe diventare il supporto per creare il bottom del bear market se questo non dovesse essere il bottom del mercato ribassista attuale. Guardiamo che i long che ci sono su Bitfinex, è interessante sempre vedere quello che fanno le whale su Bitfinex, e le whale stanno accumulando long ormai da un po' di mesi a questa parte. Nella fase di bottom attuale diciamo che i long si sono fermati, sono saliti molto durante la fase di maggio e giugno, mentre si sono fermati in questa fase attuale. La altcoin in particolare che mi sembra promettente come rapporto rischio-rendimenti in questo momento è la altcoin che si chiama Peer o anche Vulcan Forged ed è mi sembra un marketplace dedicato agli NFT se non sbaglio, però vi consiglio di guardare i fondamentali, ma il grafico sembra interessante perché abbiamo messo insieme un low, un higher low e abbiamo un livello di resistenza statico, ormai è testato direi tre volte in zona 4 dollari, 5 dollari, quindi eventualmente Peer dovesse riuscire a violare questo livello di resistenza potrebbe essere un importante punto di supporto per poi costruire una nuova ascesa. Interessante vedere che il prezzo ha recentemente flippato la media mobile dei 50 giorni, quindi potrebbe essere un'opportunità interessante accumulare qui una altcoin che era giusto qualche mese fa in zona 48-46 dollari, si trova adesso a 4 dollari e 6 centesimi. In ultimo guardiamo l'S&P, quindi l'S&P 500, quindi l'indice azionario americano, vede un'interessante risposta, crea nuovi minimi a differenza di Bitcoin, quindi Bitcoin mostra una certa resilienza rispetto all'S&P, torna addirittura a testare il livello dei 3.500 punti, quindi molto vicino allo stesso livello in cui si trovava il mercato azionario, il 31 di agosto 2020, quindi molto vicino ai livelli pre-Covid crash, durante il pre-Covid crash eravamo a 3.300 punti, quindi mi aspetto che questa zona di precedente resistenza potrebbe fornire un interessante supporto per eventualmente il bottom di questo trend ribassista. Vediamo un po', in questa zona dovrebbe esserci del supporto, violata questa zona, quindi violati 3.300 punti, potremmo scendere ulteriormente magari in zona 2.900, però per adesso risponde bene l'S&P con la chiusura della giornata di ieri. Sicuramente c'è una trend line interessante di resistenza con 1, 2 e 3 punti di contatto, quindi non sarebbe da escludere un potenziale ritorno in prossimità della resistenza discendente. Ragazzi per oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Ciao!